Riparte l'attività di monitoraggio della dispersione scolastica da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria, sei coniugi di feriti in stato di libertà per il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione scolastica, reato previsto e punito dall'articolo 731 del Codice Penale. Nello specifico, i carabinieri, su segnalazione delle dirigenti di un istituto di istruzione secondaria della città, hanno avviato un'attenta indagine al fine di verificare la presenza o meno a scuola dei minorenni. Dalle attività di monitoraggio è emerso che tre ragazzi di età compresa tra i 14 e i 15 anni, senza un giustificato motivo, non hanno frequentato le lezioni dall'inizio dell'anno scolastico. Per tale motivo i genitori dei ragazzi, due braccianti agricoli ed un operaio con le rispettive moglie, tutte casalinghe, sono stati denunciati per il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione scolastica. I risultati odierni sono l'esito di una prima parte di una serie di controlli effettuati negli istituti scolastici presenti nella giurisdizione della Compagnia di Vittoria, effettuati grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e che già lo scorso anno hanno permesso di denunciare oltre 36 coniugi per un totale di 18 minorenni che non venivano mandati a scuola così come previsto dalla normativa del Ministero dell'Istruzione. La dispersione scolastica purtroppo in Sicilia è una piaga difficile da debellare. Non a caso la regione di Sicilia si colloca il primo posto su scala nazionale per dispersione scolastica.